Quella sera di 60 anni fa il bar di Longarone era pieno di gente, quasi tutti avevano gli occhi incollati al televisore che trasmetteva la partita di Coppa Campioni tra Real Madrid e Ranger Glasgow. All'improvviso mancò la corrente, iniziò a soffiare un vento forte che sembrava bagnato. Erano le 22.39 del 9 ottobre del 1963, 270 milioni di metri cubi di roccia, terra e fango si erano appena staccati dal Monte Toc, nella piana del Cadore, nel Bellunese. L'enorme frana precipitò nel bacino formato dalla diga del Vaillant e sollevò tre enormi onde, una alta oltre 250 metri, che causarono una delle più gravi tragedie nella storia del nostro paese. La furia dell'acqua spazzò via 5 paesi e provocò 1917 morti. L'inchiesta successiva stabilì che furono diverse le cause che provocarono la tragedia. La principale, oltre alle abbondanti piogge e alle negligenze nella gestione di possibili pericoli, fu la decisione dell'allora ente proprietario della diga, la SADE, che venne poi nazionalizzata e inglobata da Enel e Montedison, di alzare il livello dell'acqua oltre la quota di sicurezza, ufficialmente per collaudare l'impianto. Il processo durò dal 1968 al 1972 e portò alla condanna di un dirigente della SADE e di un ispettore del genio civile. Oggi ricordiamo il tragico disastro del Vaillant, una ferita profonda nella nostra storia. Quasi 2000 vittime, interi paesi spazzati via, una tragedia che poteva e doveva essere evitata, scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato nei luoghi del disastro.